Un'occasione speciale perché in questo incontro che abbiamo condiviso col Presidente della Regione Campania facciamo due cose. La prima cosa che facciamo è una deriva di un solenne impegno istituzionale, politico e amministrativo che abbiamo condiviso col Presidente il 6 novembre scorso sulla questione delle comunità terapeutiche della Regione Campania. Circa 40 giorni fa facemmo una grande assemblea a Napoli sulle comunità terapeutiche della Regione Campania sul sistema di accreditamento e sul ritardo di 22 anni di quel sistema di accreditamento e di quel regolamento dell'Italia. In quell'occasione, grazie a una collaborazione istituzionale straordinaria del Consiglio regionale con la Consigliera Ciaramelli, la presenza di Don Tonino Palmese che è un rappresentante dei diritti sociali a tutto tutto in Regione Campania e in Italia e soprattutto alla volontà politica del Presidente, noi in 22 giorni abbiamo avuto un decreto 76 che aggiorna il sistema di accreditamento e le tariffe e mette in condizioni oggi le mamme, i giovani, le famiglie dei ragazzi tossicomiglienti di poter fuori di servizi di qualità in Regione senza andare fuori e anche i lavoratori di avere più certezza, più sicurezza e più e più sicurezza, più sicurezza e più sicurezza, più sicurezza e più sicurezza e più sicurezza C'è qui Daniele Scarallo che rappresenta i caciglienti che vorrei pianzare perché facciamo così ognuno fa un saluto di un minuto Presidente, un saluto di un minuto perché non abbiamo niente di cui parlate ma abbiamo solo da testimoniare al Presidente della Regione le cose, le azioni che in questo territorio e in questa rete, perché qua da soli nessuno riesce a fare l'indica e in questa rete noi riusciamo a fare, per cui do a te il tuo minuto Daniele a nome degli enti alziani, tutti che stanno qua. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti, noi ci siamo incontrati come diceva Salvatore a novembre e tutti possiamo affermare che è stata un'occasione speciale quella ma non solo perché ci siamo incontrati, perché ciò che è stato fatto ma come abbiamo ripetuto più volte abbiamo riaperto un percorso che è un percorso che è cominciato con questo decreto e noi siamo certi continuerà di confronto e di possibilità con le istituzioni di continuare a lavorare, grazie alla consiglia Cianavella, grazie Presidente, grazie a tutti per l'impegno, grazie a Salvatore e anche per questa occasione siamo certi che da qui in avanti questo dialogo continuerà e avremo la possibilità ancora meglio di fare ciò che stiamo facendo, grazie e buon lavoro. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, siamo veramente onorati della sua presenza qui, è una conferma non solo di un lavoro ma di un modo di lavorare perché penso che la cosa più importante non è soltanto fare le cose ma è come farle, io le voglio soltanto brevemente presentare l'ordine che rappresento, siamo la famiglia dei padri trinitari, un ordine che ha più di otto secoli di vita, quale fu l'intuizione del nostro fondatore San Giovanni de Maca? L'intuizione fu quella di trasformare un principio della fede, il dogma più grande della Santissima Trinità in un modello sociale, in un modello civile, in un modello di solidarietà e di amore verso i poveri e in che modo l'ha fatto? L'ha fatto in una maniera molto concreta, la nostra regola trinitaria è veramente un modello di concretezza, non perdersi in chiacchiere ma la concretezza dell'azione e ha voluto che i padri, i frati trinitari innanzitutto ha voluto che queste nostre strutture si chiamassero case, né monasteri né conventi, case, case aperte all'accoglienza, case aperte ai poveri, case aperte agli ultimi, agli emarginati, per ridare dignità a queste persone, per riconoscere quella dignità che il mondo e qualche volta e me anche le istituzioni non riconoscono. E ha voluto che tutte le offerte, tutte le donazioni che i padri ricevevano fossero divise in tre parti, la prima parte, solo una terza parte serviva per il sostentamento dei frati, la seconda parte per l'accoglienza dei poveri, la terza parte per i cristiani perseguitati che all'epoca venivano addirittura schiavizzati e venduti al mercato come schiavi. Dico all'epoca ma sappiamo bene che sono fenomeni che oggi più che mai purtroppo sono attualissimi e proprio alcuni mesi fa la stampa internazionale ha documentato in Libia la vendita di esseri umani come schiavi proprio a motivo della loro differenza religiosa e culturale. Oggi noi qui inauguriamo un nuovo modo di operare per noi padri trinitari, quello della condivisione. Noi ci siamo resi conto che siamo in piccolo ordine, non possiamo arrivare a tutto, non possiamo fare tutto e fare tutto da soli, non siamo autoreferenziali, abbiamo bisogno del sostegno della società buona, degli uomini di buona volontà e per questo ci siamo uniti a Mediterraneo Sociale, abbiamo accolto la loro proposta ma anche alle istituzioni locali per poter aprire le porte di questo convento, di questa comunità, renderla una casa bella e accogliente perché anche la bellezza parla, anche la bellezza è accoglienza e per poter realizzare quel sogno che San Giovanni de Mata vuole nella nostra famiglia trinitaria, il sogno della condivisione e il sogno dell'aiuto e del sostegno ai più deboli e ai più poveri. Spero che questo sia solo l'inizio di un percorso che certamente va sostenuto, va approfondito e aperto a tutte le realtà del luogo, del territorio, questa è un'altra sfida che insieme dobbiamo vincere, mi fa piacere la presenza del sindaco perché lo voglio ribadire anche in questa sede, questa casa, questa comunità, questa opera non può essere un'opera che non dialoga con il territorio e non aiuta il territorio ad aprire la mente e il cuore i propri orizzonti per costruire una società più giusta, più equa, più solidale. Grazie e buon lavoro a tutti. Io volevo dire prima di ringraziare il Presidente di Luca per la sua presenza qui oggi, del consigliere regionale Borrelli, della consigliera Ceramino, del Caravello, del Caravello, il consigliere Borrelli, tutti i Presidenti del Parco, tutti gli imprenditori che stamattina ci hanno onorato, la gente comune che viene qui a capire che cosa stiamo facendo, noi non stiamo facendo niente di eccezionale, stiamo mettendo a disposizione questo posto a tutti i cittadini, non solo del nostro territorio ma anche da fuori del territorio e questo perché accade? Accade perché degli uomini di buona volontà, come diceva Padre Gino, che non ho dimenticato di salutare perché lei è il padrone di casa, Padre Gino ha detto una cosa giustissima, se gli uomini di buona volontà si uniscono, fanno rete, qualcosa di buono deve avvenire per forza, se invece ognuno rimane nel proprio orticello, se ognuno di noi dice quello sta facendo questa cosa, la sta facendo, io non sono stato capace di farlo, non lo aiuto, e là è la difficoltà, là è la differenza tra gli uomini di buona volontà e gli uomini che coltivano l'orticello, noi siamo uomini di buona volontà che si stanno impegnando giornalmente, notte e giorno, Salvatore Posi dell'esempio, a fare qualcosa, un piccolo miracolo a Somma Vesuviana, a creare qualcosa di bello, una comunità sociale, sostenibile, aperta a tutti gli uomini, bianchi, di colore, verdi, gialli, rossi, noi non abbiamo timore di accogliere persone in difficoltà, sia essi italiani che non italiani, noi abbiamo timore di fornire questo campo sportivo che oggi inaugureremo ai ragazzi che non possono avere una possibilità di andare a giocare perché non hanno i soldi, perché i papà a fine mese non ci arrivano, questa è la differenza, allora se noi tutti insieme possiamo lavorare per un solo obiettivo, qual è il nostro obiettivo? Niente di speciale, di dare una possibilità anche agli ultimi, questa è la differenza, allora se lavoriamo per questa cosa insieme al Presidente De Luca qualcosa di buono potrà uscire, io non sono un uomo di sinistra, però sono un uomo che faccio un paragone con lei, mi permetto, lavoro dalla mattina alla sera come il Presidente De Luca, nel mio piccolo cerco di dare un contributo, il Presidente lo darà nel suo piccolo e insieme però questa è la rete, la rete ha un solo obiettivo, è dare degnità a tutti, soprattutto agli ultimi, io solo questo volevo dire e ringrazio per la sua presenza e non si dimentichi di questo territorio, faccio solo un appunto alla discussione, non c'entra, noi abbiamo un problema atapico da 268, ci hanno abbandonato, 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 ci hanno lasciato da sul nostro territorio, purtroppo le arterie stradali di questo territorio sono distrutte, dovevano consegnare i lavori il 5 di dicembre, stiamo adesso, al 6 di febbraio con un ritardo atapico, dovuto all'intervento, dovuto a tutto, ma penso che qualcosa non funzioni in questo dispositivo, chiedo solo un aiuto per questa questione che è fondamentale per la nostra città, grazie, scusate. Grazie, a cento passi da qua, signor Presidente, simbolicamente, c'è un bene confiscato alla camorra che era l'ex casa di Tutolo, che oggi viene gestito splendidamente dal Presidente Agostino Casino, a cui vorrei dare la parola perché questo è il parco nazionale del Vesuglio dove non stiamo costruendo questa comunità. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno a tutti, saluto a queste persone che sono qui oggi, io mi atterrò al minuto che stanno tutti quanti rispettando. Io sono contentissimo di stare qui oggi, anche perché il centro storico di Somma Mesugliana è l'unico centro storico all'interno del periodo del parco nazionale del Vesuglio, questo è un grande orgoglio, immagino, per questa città, per la comunità, ma per tutti quanti noi della comunità del parco. Soltanto una riflessione su una parola che ho letto oggi, stamattina, sulla cartellina che mi è stata data, comunità locale sostenibile. Io credo che in quelle tre parole c'è tutto quello che secondo me dobbiamo percorrere per trasformare veramente il nostro territorio, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la sostenibilità economica e questo è il modello di sviluppo che dobbiamo percorrere e a questo modello di sviluppo a cui come parco anche con difficoltà, perché sappiamo tutti che questo è un territorio molto complicato, stiamo lavorando in sinergia con le altre istituzioni. Io credo che se posso fare soltanto un appunto su questo, il parco è cambiato, ci siamo aperti molto, il parco si è aperto alla collaborazione, stiamo lavorando benissimo con i 13 sindaci, con la regione metropolitana, con la regione campagna che ci è sempre stata vicina. Io credo che se quel concetto di rete e di collaborazione è quello che ci unirà, anche questi luoghi saranno secondo me avranno un futuro sicuramente migliore. Grazie, grazie Presidente. Io voglio dire al Presidente della regione campagna che i lavori che noi abbiamo fatto qua a Campetto di qualificazioni sono stati ricettosinamente controllati dal parco nazionale dei bisogni, dai tecnici, tutti con tutte le autorizzazioni rigorosissime, anche con una concettazione significativa che abbiamo fatto per la qualità e la sostenibilità della a me, quindi Presidente voglio ringraziare soprattutto per questo e per quell'accesso che faremo per i disabili che dovranno venire a utilizzare gli spogliatori, su cui pure stiamo trovando una soluzione, gli spogliatori per i disabili per rispettare il territorio anche quando si va a fare questa operazione. Tutto questo, io lo dicevo prima al Presidente in modo dedicato, ma lo voglio dire pubblicamente, questi lavori come sa Padre e Gigno per le difficoltà che abbiamo sono stati fatti senza un euro, ma con mutui di banca etica, della finanza etica che abbiamo investito in questo posto per renderlo bene tutto. Vorrei che Nello tu ci facesse un saluto perché rappresenti la finanza etica, un saluto di un minuto oppure di un minuto oppure il mio saluto. Io vi sento parte della rete che tu guidi perché le reti se non hanno qualcuno che le guida poi rischiano di arravagliarsi sul loro stesse, perché questa rete la guidi tu e così egregiamente io mi rimetto alla guida apprezzandovi tanto per la tua inarrestabilità mi sembra che oltre al ringraziamento per l'obiettivo raggiunto grazie all'intervento dell'onorevole Caramella, del presidente De Luca e di tutti quanti per questa cosa delle comunità di accoglienza, tu che sei inarrestabile stai lanciando anche già un altro progetto per andare oltre, questa cosa della fondazione di comunità alla quale io sindora ti offro tutta la disponibilità di Finetica dal punto di vista concreto e finanziario per sostenere questa iniziativa ovviamente insieme alle associazioni e alle istituzioni che vorrei coinvolgere, vorrei anche ringraziare il nostro presidente onorario di Finetica che è il dottor Luigi Gravagnolo che è venuto qui da Cava proprio che sarà vicino a noi a questa iniziativa, grazie, 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 grazie a tutti, una vera benissimo, consigliera Caramella, a te la parola e grazie per la tua grandissima disponibilità istituzione. Allora io ho 30 secondi per dire due cose, che la presenza qui oggi vuole essere il segnale di un impegno che non è solo a parole, di solito si fanno i convegni per immaginare, chiacchierare, dire si farà, si dirà. Invece noi siamo qui per ringraziare per un risultato ottenuto, 22 anni recuperati in 22 giorni, grazie al presidente del gruppo. E per dire un'altra cosa, quando parliamo di economia civile, quando noi parlavamo di economia civile tutti ci dicevano beh sarebbe bello, è un bel sogno, è qualcosa che sì, sono parole che sono delle persone di buona volontà. Allora era importante visitare questa struttura perché siamo nell'epoca nella quale bisogna prima toccare i risultati per poter poi seguire quelli che hanno la visione. Allora tutti noi in questa stanza abbiamo una visione, che è quella di un mezzogiorno e di un sud responsabile del proprio destino e non a caso con il presidente dell'unico votato, il consiglio regionale, una mozione per richiedere maggiore autonomia. Maggiore autonomia significa maggiore responsabilità e questo è l'esempio che non solo lo sappiamo fare ma lo dobbiamo fare perché per essere non più ultimi dobbiamo partire dagli ultimi. grazie e buona domenica. Grazie a voi, ora diamo la parola al presidente perché abbiamo tempi ridottissimi, la pioggia ci ha un po' castigato ma ci ritroveremo in un'altra bella giornata di sole. Io devo solo dire, portare il saluto del Vescovo, c'è qui Raffaele il responsabile della Caritas, grazie, grazie, il Vescovo Marino. Teniamo il professor Di Simone con il sito archeologico Villa Augusto con cui stiamo facendo un progetto di archeologia di comunità, insomma presidente, una rete di tante ricerche e azioni, di tante cose che danno lavoro, sostenibilità e futuro alle nuove generazioni. A te la parlo. Allora cari amici, allora un saluto affettuoso a tutti quanti voi, si respira qui un clima di grande famiglia, di comunità, sottomediato almeno che però mi riguarda dall'aver ritrovato alcuni vecchi amici di Verito Misco, che ho trovato ingiovanito come un adolescente, ma io sono consumato, Cicino Gravagnolo, Gertrino Rondo, tanti di voi con i quali ci siamo incontrati in tante battaglie per difendere il valore, per difendere un'idea di comunità, di società, per difendere principi di uguaglianza e di dignità. Non posso ovviamente non fare i miei complimenti a chi ha realizzato questa struttura, ringraziare di tutto cuore dal Regino che ci ospita con un atto di generosità che merita davvero un ringraziamento particolare. Questa è la struttura più bella e più impegnativa che io abbia trovato per tutta la campagna, forse insieme con un'altra bella struttura dell'area desertare, che è davvero grandissima, enorme, e faccio partita anche a chiamarla comunità, non saprei come definire questa struttura, perché è un luogo di economia sociale, di valorizzazione dell'ambiente, di creazione di lavoro, di sostegno alle frascendenti, di formazione culturale, di attività sportive, è incredibile, è veramente un piccolo mondo e dunque davvero complesso. Un saluto al sindaco, anche io non sono appassionato delle bandiere di partito come tu sai, io sono un militante del partito democratico, ma se devo scegliere fra la verità e la bandiera del partito, io scelgo la verità, senza nessun punto, senza proprio pensare a parlare. Ovviamente mi auguro che questo petto valga per tutti, perché mi è capitato, ho qualche decennio di esperienza di vita amministrativa, di fare un lavoro per anni e anni, senza domandare a nessuno direttamente politico, senza avere la rubrica dei clienti, per poi ritrovarmi di fronte gente che invece alla fine la lista dei clienti ce l'aveva. Allora un conto è avere spirito di libertà e di verità, un altro conto è essere preso in giro, perché allora mi arraggo. Quindi o i criteri valgono per tutti, si rispetta il lavoro, la concretezza, la dedizione e l'impegno e allora andiamo da loro. Ma se questo vale per me e non vale per gli altri, allora, grazie. Allora una bellissima esperienza. Noi abbiamo credo 20.000 persone che vengono assistite nella nostra regione, accompagnate in un programma di recupero. Abbiamo 20.000 donne e uomini del nostro territorio che hanno problemi di dipendenza. Ora affrontare questi problemi significa avere un sistema di valore o altrimenti questi problemi non si possono affrontare. Significa credere che una società non possa vivere considerando gli esseri umani scatti o guardando a chi ha problemi sociali con fastidio. Io sono fra quelli che ritengono che alcuni principi dello Stato sociale debbano essere cambiati. Cioè che si debba affermare in maniera rigorosa il principio della responsabilità. Ogni essere umano è responsabile della sua vita in primo luogo e delle sue scelte. Però anche qui bisogna stare attenti. Perché anche nell'affermare il principio di responsabilità, siccome non tutti gli esseri umani vivono nella stessa condizione sociale e culturale, un conto è affermare il principio di responsabilità. È un ragazzo che vive in una famiglia perestante, è un ragazzo che non ha problemi elementari di vita, è un ragazzo che ha un ambiente culturale nel quale è cresciuto. Un altro conto è affermare il principio di responsabilità, è un ragazzo che vive in una famiglia nella quale ci sono due genitori in carcere o che ha vissuto nei quartieri della paura dove è difficile anche assorbire e assumere valori positivi. Questo è quello che differenzia le diverse visioni della società. Credo nel principio di responsabilità, ma credo nel dovere morale di non considerare gli esseri umani scarti della società, anche quando questo comporta un impedito, anche finanziario. Perché una comunità vive se ha un sistema di valori che la sorregge, altrimenti ci avviamo verso forme di nuova barbarie. E devo dire che il clima di comunità e di grande famiglia che respiriamo non è il clima che respiriamo in Italia da anni e anni, perché sono anni che anche nella vita pubblica nazionale ci sono forze politiche impegnate a diffondere un linguaggio di violenza, di intolleranza, di arroganza, di barbarie che sta torrompendo l'Italia. Un conto è avere visioni diverse della società italiana, un altro conto è non aprire bocca senza offendere interlocutori. Ci sono autorevoli consiglieri regionali, ci capita a volte di fare un dibattito in consiglio regionale, ci sono alcuni colleghi che non c'è un intervento che facciano senza offendere la dignità. Si un elinquente ti fa capire. E' caro. E qui abbiamo passato decenni di vita per dare una mano alla cosa della gente. Anche in questo dobbiamo fare una battaglia di crescita civile, difendere la civiltà dei rapporti, il rispetto reciproco. Si può essere perfino avversario, ma rispettandosi, rispettandosi, sapendo che ogni essere umano è portatore di un nucleo di verità, grande o piccolo che sia, ma ognuno ha un nucleo di verità da esprimere, perché ognuno è portatore di un'esperienza di vita su cui bisogna riflettere, su cui si può imparare. Allora 20.000 persone fra quelle conosciute, ma poi sono tante altre, persone che hanno problemi di dipendenza, che hanno bisogno di una mano, di un aiuto. Abbiamo affrontato qualche anno fa, io facevo il sindaco, un tema che allora era ai margini, adesso c'è un po' più di attenzione, quello dell'alcolismo. Ho incontrato quasi venti anni fa, c'è un'associazione Logos che curava in solitudine persone che avevano problemi di alcolismo. Mentre per le tossicodipendenze c'è più attenzione sociale, ci sono alcune dipendenze che sono completamente dimenticate, ma sono tragedie per le famiglie, e a volte tragedie doppie, perché quelle dipendenze si accompagnano con un sentimento di vergogna, dei figli, delle madri, dei padri. Quando c'è un padre alcolista c'è una vergogna in più per un ragazzo a far sapere che c'è quel problema. Allora la prima cosa che dobbiamo affermare è questo, nessuna vergogna. La vita di un essere umano non è una strada tra i corsi. La vita è un sentiere tortuoso, a volte fatica anche a trovare la traccia. La vita non è già scritta, la vita è fatta davvero di tante pene e di tanti sacrifici. L'importante è non perdere l'orientamento di fondo. L'orientamento di fondo è la dignità di ogni essere umano, la dignità di ogni essere umano. Dunque la prima battaglia è questa. per prima ancora che per i soggetti che hanno dipendenza e per i familiari. Vivete questi problemi senza senso di vergogna, senza sentirvi ai margini della società. Sentitevi come tutti quanti gli altri, come persone che hanno diritto ad avere una mano, ad avere un aiuto perché questo è doveroso in una comunità civile. Ragioniamo su alcune evoluzioni che hanno alcune patologie. Parlando sempre dell'alcolismo, noi siamo arrivati al punto che abbiamo problemi con ragazzi di 14 anni, 13 anni. Il fenomeno della movita e della vita notturna ormai sta devastando un'intera generazione per alcuni modelli culturali deteriori, per il faraduttismo di qualche commerciante che pur di vendere un po' di porcherie, di superalcolici, rovina la vita di tanti ragazzi. Abbiamo a volte nei pronto soccorsi a Napoli, a Salerno, a Caserta, arrivano in coma etilico ragazzi di 13 anni, di 12 anni. È una tragedia e qui dobbiamo fare una battaglia nelle famiglie, nelle comunità, negli oratori. Abbiamo fatto una legge per rialimentare, ridare vita e sostegno negli oratori. Noi abbiamo ovviamente alcune dipendenze che sembrano più leggere, marihuana, abbiamo il fenomeno delle pluri dipendenze, delle pluri assunzioni. C'è chi assume contemporaneamente eroina, cocaina, che fuma. Allora diciamo con grande chiorezza ai ragazzi che non è una cosa da dire, fumiamo, non perché fumiamo. Questi elementi di superficialità, di banalizzazione dei problemi, cerchiamo di esercitare un ruolo di educazione, di educatori, non rinunciamo alla funzione di essere educatori, cioè al dovere di dire dei sì e dei no, dei sì ma anche dei no. Abbiamo nuove forme di dipendenza, autopatia, abbiamo pensionati che si rovinano la vita per andare a giocare in questi centri di malavita che veramente sfruttano. Abbiamo a volte a fine mese i pensionati che prendono la pensione e se la fumano in due giorni e così via potremmo legare un po' i problemi che stanno attraversando la società contemporanea delle famiglie. Allora è decisivo avere questo esempio, lo Stato da solo non ce la farà male. Ed è decisivo avere forme di volontariato vero, perché un altro dei fenomeni cresciuti negli anni 90 in particolare è quello che ha visto formarsi associazioni di finto volontariato che erano luoghi di clientela politica e di dipendenza. Erano più associazioni di commercianti e di volontariato. Anche qui dobbiamo avere una linea di grande rigore, dare non una mano ma dieci mani a chi fa volontariato bene, a chi organizza una comunità sociale, rispetto a chi ovviamente fa altre tipi di operazioni legate ai padroni di turno nelle istituzioni. Allora noi dobbiamo essere parte di questo grande sforzo di civiltà, di solidarietà, di umanizzazione delle nostre comunità. Con grande spirito di libertà e con grande autonomia dal potere e dalla politica, quali che siano i segni, i diritti civili valgono a prescindere. Io non vi ho fatto un piacere e un regalo, ho fatto il mio dovere di uomo che è al servizio della sua comunità. Punto. Non mi dovete dire. E anche questo è un altro salto di civiltà. Non lasciarsi alle spalle maggiordomi, clienti o servi, ma lasciarsi alle spalle donne e uomini liberi che se decidono di aiutarti e di sostenerti lo fanno per convinzione, non per un rapporto di bassallaggio, di servitù che io rifiuto e non la faccio. L'ultima cosa. Noi abbiamo avuto un incontro al centro di azionale a Napoli due mesi fa. Mi era stato sognalato un problema che mi era sfuggito. Ho avuto una condizione da vent'anni di grande sofferenza nelle associazioni perché non avevamo codificato l'accreditabilità delle strutture, i criteri per l'accreditabilità e avevamo una tariffa che rendeva impossibile alcune attività. Mi è stato segnalato il problema, gli ho dato una mia parola d'onore che avremmo risolto entro l'anno. Il 28 dicembre del 2016, entro l'anno, ho firmato il decreto per l'adeguabilità. questa cosa fa così. Perché saremo uno su mille fra quelli che stanno in istituzione e danno la parola d'onore e mantengo la parola d'onore. pure perché questa cosa ci costa. Abbiamo firmato il decreto ma le tariffe sono aumentate del 40%. Allora, è stata battuta a parte una scelta doverosa, giusta, corretta per dare una mano a chi svolge questa attività sociale e per fare in modo che queste comunità crescano. Ce ne sono alcune decine, abbiamo qualche vuoto particolarmente grave a Napoli città, dobbiamo recuperare in questa realtà, ma nel complesso devo dire che ci stiamo avviando verso obiettivi di grande qualità anche nelle prestazioni sociali. Voi dovete sentirvi dentro l'obiettivo che ci siamo dati di fare la campagna a prima regione Italia, per la sanità, per l'assistenza sociosanitaria, per la qualità dei servizi sociali. E se raggiungiamo questo obiettivo in campagna vale 10 volte di più, perché un conto è raggiungere obiettivi di qualità a Milano, in Lombardia, dove hai un reddito pro capita che è esattamente il doppio della campagna, 32.000 euro pro capita rispetto ai 16.000 euro pro capita della campagna, un conto è raggiungere questi obiettivi in una regione come la nostra, perché questo significa fare le scelte. Il primo atto che ha fatto la nuova giunta regionale è stata l'integrazione del Fondo per le disabilità, 16 milioni di euro. Ho voluto che fosse quella la prima decisione della nuova regione campagna, integrare il Fondo per i disabili perché lo consideravo una decisione simbola per la povera gente, per gli ultimi, per i più debili. Poi come sapete io ho le mie opinioni sulla sicurezza, nel senso che noi dobbiamo avere sempre un doppio atteggiamento che non si può separare, braccia aperte, accoglienza, aiuto a tutti, per ragioni di umanità, di spirito cristiano, di valori civili, ma anche estremo rigore nei confronti di chi viola le leggi, quale che sia il colore della pelle. Perché se qualcuno viene in Italia per sfruttare la prostituzione, spacciare droga e dare fastidio, io penso che non possiamo essere caritatevoli, una volta, due, tre, poi basta. Questo se vogliamo essere persone serie e non perdere il contatto con gli esseri umani normali, che sono disponibili all'aiuto e alla solidarietà, ma hanno anche il diritto di vivere in pace e di non avere la paura se esce una ragazza di notte che non torni a casa. Questo no, io almeno la penso così. A proposito, io penso che... Allora, bellissimo mattinale, ho scoperto una realtà che non conoscevo, al sindaco dico che abbiamo stanziato, mi pare, 20 milioni di euro per la 268, quindi completeremo questa benedetta strada che è maledettamente pericolosa, era un impegno e lo manterremo, vediamo un po' per la consegna dei lavori, se si decidono a muoversi. Apriremo, credo, un'altra bella struttura a Marigliano, se ricordo bene ho trovato un'altra bella realtà, non grande come questa, c'è una chiesa gestita di francescani che fa un'accoglienza per ragazzi soli, per anziani abbandonati, una mensa sociale, faremo lì a spese della regione anche un parco della pace, perché sono andato una mattina e ho visto che dietro la chiesa c'è un parco abbandonato che può diventare davvero un parco bellissimo per accogliere bambini, anziani e per essere aperto, offerto anche ai cittadini, quindi faremo un bellissimo intervento. allora come vedete ci teniamo per mano per le cose che fate voi, per quelle che possiamo fare noi, perché le nostre comunità davvero siano comunità civile. Grazie a tutti quanti, fate un buon lavoro, auguri a voi e alle vostre famiglie. 30 secondi, io non sono abituato a chiosare, 30 secondi perché abbiamo fatto la messa di Natale con Don Torino nella nostra comunità qui a Vecchino, ragazzi stanzionipendenti e ci siamo presi un impegno per quest'anno su una parola che era l'umiltà, io con questa unità proprio il risposto, non sto più là, ho il dovere di rappresentare delle cose e quindi 30 secondi rappresentano. Prima cosa devo rappresentare gli operatori della struttura Taiman, è una struttura di urna, l'unica dell'AS, Napoli presunto, che come i sindaci ti hanno scritto non può chiudere, per le cose che tu ci hai detto. La seconda cosa, i ragazzi naisi, dove stavano? I ragazzi naisi non possono aspettare, mi ricordo queste suore, questi ragazzi sono gli ultimi tra gli ultimi, io voglio costruire un'agenda, io non sono una persona che quando accoglie, non facciamo pertenze, non chiediamo cose, stiamo accogliendo, però voglio costruire questa agenda con la consigliera Sarabella e poi i minori, li chiamano minori che si dicono, sono bambini, sono bambini, avevano 5 anni, 6 anni, 4 anni, poco tempo fa. Ecco noi dobbiamo costruire una grande agenda lavorando con queste cose, con questo spirito chiedo a Rosa e a Olimpia di farvi vedere i loghi delle comunità locali sostenibili nel mondo, per un attimo li presentiamo e ci liberiamo. Ecco qui, questo è il primo, è il logo della comunità locale sostenibile Parco Mediterraneo, è il logo generale che girerà, speriamo, in tutto il mondo e poi il logo di Parco Mediterraneo, ve lo facciamo vedere perché ci hanno lavorato tanto tempo, i nostri ragazzi dell'ufficio comunicazione. Eccolo qui, Parco Mediterraneo, per un'altra parte di Parco Mediterraneo. Grazie.